Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video che oggi occupiamo di una giornata di sole per andare a fare il sole. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti i nuovi iscritti del canale, grazie mille, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, lasciare un commento, un like, attivare la campanellina. Se volete potete anche seguirmi su Instagram trovate il link qua sotto in descrizione del video o nel canale stesso che trovate se non sbaglio in alto a destra. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.